Musica Buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon sabato 17 di agosto di nuovo insieme con la nostra rassegna stampa dopo un giorno di stop per la mancata uscita dei giornali in edicola torniamo puntuali però con il nostro format del weekend quindi con tutto un concentrato di notizie quindi andremo a vedere cosa è successo in questo lungo weekend segnato anche dal ferragosto ma partiremo subito con le previsioni meteo perché c'è un'allerta dopo giorni di caldo affoso si prevede insomma un peggioramento delle condizioni anche nella nostra regione partirei dunque subito da qui e quindi con il sito della protezione civile regionale intanto il messaggio di allertamento che è stato dato proprio nella giornata di ieri con un'allerta riguardo i temporali, un'allerta gialla quindi diciamo primo colore di allertamento quindi non dovrebbero essere fenomeni troppo violenti ma conviene comunque prestare attenzione quindi criticità legata ai temporali idrogeologica, idrealica, temporali e quindi nelle zone 2, 4 e 6 che sarebbero le zone costiere appunto e questa è la situazione per quanto riguarda la giornata di oggi per tutta questa giornata di sabato 17 di agosto ma andiamo anche a vedere il bollettino meteo per scendere un po' più nel dettaglio e quindi se la mattinata di oggi si presenterà tutto sommato serena nel pomeriggio invece dovrebbe esserci un peggioramento delle condizioni con temporali diffusi dalla costa all'entroterra con le temperature che però non dovrebbero avere variazioni di rilievo invece per la giornata di domani domenica 18 di agosto cielo poco nuvoloso al mattino ancora piogge il pomeriggio e ancora i temporali nella nottata serata con le temperature e questa è una buona notizia in diminuzione nei valori massimi ci spingiamo anche fino a lunedì con un giorno tutto di pioggia così almeno si presenta con il bollettino della protezione civile regionale quindi la fonte è autorevoli con precipitazioni diffuse dunque per la giornata di lunedì a carattere di rovescio e temporale più insistenti lungo il settore costiero e nel settore meridionale della regione con temperature ancora in diminuzione questa è la situazione meteo ma andiamo a vedere invece con i giornali quindi partiamo subito con il corriere adriatico della provincia di Ancona il riscatto dopo le alghe questo è il titolo in primo piano che campeggia per raccontare diciamo il passato ferragosto senza boom sulle spiagge questo è il dato che viene riportato dal giornale cosa dicono gli operatori puntiamo su settembre per salvare la stagione perché è iniziata tardi lo sappiamo poi luglio è stato luglio agosto sono state caratterizzate da questi fenomeni delle mucillagini a fase alterna e a macchia di leopardo c'è da dire sul litorale e anche se ci concentriamo insomma per la parte anconetana sulla riviera del Conero e dintorni le mucillagini incubo dei bagnanti l'esperto dell'ARPAM dice adesso speriamo nell'effetto mareggiate che dovrebbe diciamo portar via tutto questo materiale che è materiale in fondo naturale perché è un materiale prodotto è un muco prodotto proprio dalle alghe dalla loro proliferazione che è legata in qualche modo anche all'aumento delle temperature in particolare delle temperature del nostro mare adriatico notizia invece che troviamo in taglio centrale è questa diciamo così che si tinge un po di rosa la cronaca che si tinge di rosa con il campione di Fioretto Marini che torna a casa lo sappiamo con una medaglia olimpica e adesso si concede diciamo questo questo momento sotto i riflettori con ballando con le stelle quindi con l'altra campionessa Federica Pellegrini e Selvaggia Lucarelli appunto così conoscerò Federica e Selvaggia questo dice appunto Tommaso Marini in questa intervista appunto al Corriere Adriatico poi vedremo che notizia speculare la troviamo anche qua sul resto del Carlino sempre di Ancona Marini balla con le stelle mi metterò alla prova intervista al Fiorettista Anconetano fresco di medaglia alle Olimpiadi e nel cast della trasmissione di Milli Carlucci e quindi lo vedremo su Rai 1. Ritorno al Corriere Adriatico e c'è un approfondimento legato alla politica scosse a destra la campagna acquisti di Forza Italia cannibalizza l'alleato Lega la disamina della collega Martina Marinangeli alle elezioni regionali manca ancora un anno e quindi sappiamo insomma che questo sarà un anno importante appunto per la regione Marche per il presidente Acquaroli e la sua compagine la campagna elettorale però di fatto è già partita dice il giornale Lassopiglia tutto in questa fase è Forza Italia che sta portando a casa un'informata di scritti non indifferenti con nome spesso strappati all'alleato della Lega dopo la migrazione delle consigliere regionale Mirko Bilò ora tocca a Giovanni dall'asta poche settimane fa c'era stata proprio la visita del leader di Forza Italia nonché ministro degli esteri Antonio Tajani proprio ad Ancona al passetto per appunto presentare questa fruttuosa campagna acquisti appunto degli azzurri all'interno di diversi consigli comunali sindaci ma anche consiglieri regionali come abbiamo visto e quindi una migrazione verso gli azzurri che in qualche modo sposta anche un po' gli equilibri all'interno della maggioranza continuiamo a guardare ora le notizie questa di Ancona legata alla cronaca minaccia il fratello giuro ti affogo finisce in manette e poi ancora a Monteporzio poi andremo ad approfondire la notizia proprio sulle pagine del pesarese pitbull lo azzanna muore un cagnolino zuffa tra proprietari e purtroppo la notizia che ha scosso la giornata di ieri tregua dall'afa ma scatta l'allerta per i temporali l'abbiamo visto poco fa quest'altra notizia da Senigallia un fatto di sangue che ha scosso la vigilia di ferragosto nella notte appunto tra il 14 e il 15 notte che notoriamente alcuni giovani hanno trascorso in spiaggia all'alba insomma o comunque si sono attardati insomma proprio in quella notte a Senigallia è accaduto questo ragazza contesa maxi rissa a 17 anni a coltella il rivale scontro tra bande sul lungomare di Senigallia ferito un 19enne il minore è stato denunciato questo è quanto andato in scena in ferragosto di sangue sul lungomare a Lighieri per i fendenti è stato denunciato un 17enne straniero residente nell'interland di Senigallia ha ferito il rivale al ginocchio mandandolo all'ospedale e poi quest'altra notizia di cronaca oggi l'addio a Sara e Marco l'investitore non ricordo e quindi l'incidente che è avvenuto martedì scorso sulla statale adriatica a Senigallia hanno perso la vita due ciclisti moglie marito Sara e Marco appunto residenti a Polverigi sposati da appena otto mesi sfalciati da un'auto condotta da un ragazzo neopatentato di 19 anni oggi ci sarà l'addio che si presenta commosso e straziante nelle premesse questi ragazzi erano amati davvero da tantissime persone e la comunità è sconvolta la comunità di Polverigi è sconvolta da quanto accaduto il sindaco per la giornata di oggi ha proprio indetto il lutto cittadino ed è un momento di sconforto e rabbia anche all'interno della grande comunità dei ciclisti amatoriali di cui Sara e Marco appunto facevano parte quindi questo ecco l'ultimo atto l'addio e poi quello che dice il ragazzo insomma non ricordo sappiamo che il cellulare del giovane è stato requisito dagli inquirenti proprio per capire se ci sia stata una distrazione all'origine di questo gravissimo fatto di cronaca sulle strade andiamo a vedere ora il resto del Carlino sempre di Ancona e quindi bilancio riguardo il Ferragosto in particolare a Porto Novo niente assalto i rischi dell'accampamento abusivo che sono sempre dietro l'angolo e non solo a Porto Novo appunto Ferragosto in Baia mezzo flop così dice il giornale molti ombrelloni erano vuoti zero molte sulla provinciale segno insomma che poi tutto questa tutta questa resta di auto non c'è stata e poi la notizia che abbiamo visto poc'anzi a Senigallia appunto ragazzo accoltellato durante una rissa 19enne finito all'ospedale dopo essere stato colpito da un minorenne che è stato subito individuato e denunciato ancora qua questa bella foto news di Marini che ora si prepara a ballare con le stelle e quindi una nuova prova in qualche modo per il campione anconetano altre notizie che troviamo ora riguardo il carcere di Montacuto so raffollamento pensate del 130 per cento è il dato che emerge dopo la visita del senatore Zanattin di Forza Italia tra l'altro è in corso un dibattito a livello nazionale proprio per avviare un nuovo svuota carceri se ne parla spesso insomma uno svuota carceri che prevederebbe appunto una fine pena ai domiciliari appunto per riuscire a liberare le strutture carcerarie italiane che sono davvero sovraffollate l'esempio di Montacuto del carcere più grande che abbiamo nella nostra regione ad Ancona si parla di un sovraffollamento dunque del 130 per cento il tetris delle scuole ora andiamo a vedere il vecchio Savoia è stato svuotato presto ci sarà la demolizione e quindi demolizione della vecchia scuola e per il momento lo spostamento dei ragazzi nella storica sede di via vecchini il giornale insomma aveva raccontato la puntata precedente due giorni fa entrando appunto nella sede dell'ex Savoia che è stato diciamo riammodernato per il momento comunque ci sono state delle migliorie proprio per accogliere questi 700 studenti Serra dei Conti ora nuove voci mostre e teatro è la notte nera una kermesse nota conosciuta e frequentata che compie 18 anni e propone una giornata alla scoperta dell'arte andiamo ora a Pesaro e abbiamo parlato molto di mocillagini riguardo anche il ferragosto le spiagge più o meno affollate nell'Anconetano a Pesaro a causa delle mocillagini i pescatori chiedono aiuto o perlomeno tornano a chiedere aiuto perché sappiamo che questa allarme era stato lanciato già nelle scorse settimane e c'è stato già anche un incontro proprio in regione Marche la mocillagini ha causato danni alle imbarcazioni nuovo appello dopo l'incontro in questo caso in comune come Pesaro anche Fano rassicura nessun rischio per la salute però lunedì convocata l'ARPAM e quindi ci sarà un aggiornamento proprio nella giornata di lunedì e poi c'è questa bella storia che il giornale mette in primo piano da Pantanelli nascerà Pantarei e quindi un progetto di utopia questa diciamo questa associazione di promozione sociale che si occupa di inserimento lavorativo anche di ragazze e ragazzi soggetti insomma con difficoltà e quindi diciamo che c'è questo questo connubio tra appunto il vivaio e questa attività sociale davvero molto importante per l'inserimento lavorativo. Andiamo ancora avanti e vediamo di qua quest'altra notizia fuori per Ferragosto i ladri svaliggiano la casa rimasta vuota purtroppo succede anche questo durante le vacanze a Piobbico si schianta con due auto dieci feriti gravissimi gravissima la donna volata in strada tre le auto coinvolte con diversi feriti questo è quanto sapevamo anche noi che abbiamo dato la notizia nei nostri notiziari tre auto coinvolte in particolare insomma grave la donna che si trovava al volante di una utilitaria c'è stato quasi uno scontro frontale insomma tra due delle autovetture poi una terza è stata diciamo coinvolta collateralmente rispetto a questo schianto che è stato anche piuttosto violento e la donna è stata portata in questo caso con l'eleambulanza all'ospedale regionale a torrette di Ancona. E andiamo a vedere quest'altra notizia Pitbull sbrana un maltese scoppia la rissa al ristorante ferito a una mano il proprietario del cagnolino la figlia di 19 anni si sente male entrambi sono finiti all'ospedale legato ad un palo strappa il guinsaglio un pitbull a zanna e uccide un piccolo maltese un pranzo fuori porta finisce con un cagnolino morto e due persone ferite per aggressioni ad opera del cane senza museruola è successo poco dopo le 15 di ferragosto a monte porzio succede insomma anche questo e c'è tutto un dibattito in corso appunto su come tenere i cani in linea generale insomma come comportarsi il giornale pone l'accento sul fatto che questo cane fosse senza museruola e fosse insomma legato fuori dal locale andiamo a vedere ora altre notizie sempre dal pesarese notizia insomma che abbiamo letto poco fa pitbull legata ad un palo a zanna barboncino e lo sbrana rissa sfiorata al ristorante arrivano anche i carabinieri per sedare gli animi poi ci sono stati anche dei feriti insomma è una ragazza che si è sentita male via la mocillagine ma anche i turisti e anche qui il resto delle carlino pone l'accento sul problema delle mocillagini il mare migliora però troppo tardi per qualche villeggiante che ha chiesto addirittura il risarcimento agli hotel qualche disdetta c'è stata ma dobbiamo dire che questi fenomeni di questo fenomeno delle mocillagini è un po così all'impronta nel senso magari compaiono al mattino scompaiono il pomeriggio per due giorni non ci sono poi magari compaiono in alcune località ristrette diciamo che non è stato non è stata tutta l'estate un fiume di mocillagini questo lo dobbiamo dire assolutamente ci sono stati giorni in cui davvero tutta la costa adriatica marchigiana era balneabile bellissima con l'acqua assolutamente piacevole insomma caldissima e questa però è la situazione insomma per chi viene da fuori magari un taglio di giorni trovarsi questa situazione è addestato delle preoccupazioni e c'è una sorta di allarme per il turismo ma come abbiamo visto anche per la pesca poi il giornale punta nel taglio centrale su questa inchiesta che sta portando avanti ormai da qualche giorno sull'appalto rispetto alla biosfera la presentazione questa la foto si riferisce alla presentazione dello scorso inverno quando c'era ancora la giunta di ricci il sindaco biancani il sindaco attuale sembra voler inaugurare però una nuova epoca sposto la biosfera dalla piazza così dice il sindaco senza copertura si rovina si cambierà entro il 2024 perché il 2024 è l'anno di pesaro capitale della cultura però di fatto la biosfera a quanto pare resterà e quindi c'è l'idea insomma di spostarla per non per evitare insomma che ci sia l'usura da parte degli eventi atmosferici insomma e andiamo ancora avanti a vedere le notizie dal pesarese a montecchio di attiziana stroncata da un tumore come la sorella un triste destino insomma per questa famiglia e poi colpo in via verdi blitz dei ladri presa cassetta di sicurezza con 4 mila euro e qui ci sono due notizie di sport che riguardano la vuel con la valigia tutti ritiro a carpegna domani la partenza e poi la vis pesaro arriva a coppola per rinforzare la difesa classe 2005 è in prestito dal pisa cambiamo provincia siamo con il correre adriatico di macerata e caccia ai fondi per le mura il comune punta a completare il restyling pronto il progetto da mezzo milione avanza il maxi cantiere nel rione marche via il semaforo raddoppia il sottopasso e quindi come cambia la città di macerata con diversi progetti che stanno andando avanti e caccia ai fondi appunto per completare il discorso delle mura e poi a civita nuova marche si ripete la tradizionale processione corteo di barche per san marone con questa bella istantanea coinvolta insomma la guardia di finanza la capitaneria di porto ancora altre notizie che troviamo dalla maceratese a pollenza cioè è di pollenza tiberi è gara di triathlon estremo in norvegia l'impresa di tiberi e poi ancora porto recanati lo show dei fuochi pienone sul litorale locali tutti sold out quindi è un buon bilancio quello che può stilare la cittadina di porto recanati appunto per questo ferragosto e quindi con diverse persone insomma che hanno affollato il lungomare con i locali pieni e poi il bagno di folla proprio nella serata del 15 con i fuochi d'artificio andiamo a vedere di qua morrovalle ancora ladri durante i giorni di festa non sono purtroppo una novità ma ormai una certezza ladri assegno in una billetta restano a frugare per quattro ore a morrovalle i malviventi nazioni via manzoni in un'altra casa il proprietario però li ha messi in fuga scia di furti tre abitazioni nel mirino una vuota per l'assenza dei proprietari i ladri sono rimasti dentro in cerca di soldi e gioielli per oltre quattro ore rovistando ovunque erano in due entrambi sono stati ripresi dalle telecamere poste all'interno della casa e quindi in qualche modo c'è anche un documento filmato che speriamo possa servire alle forze dell'ordine proprio per identificare questi due malviventi ed ora siamo con il resto del carlino con questa notizia muore tre mesi dopo l'incidente parliamo di giovanni illuminati 77 anni era stato investito appunto tre mesi fa mentre era in bici a porto ricanati da una fiat 500 indagata per omicidio stradale la ragazza al volante purtroppo questo signore non ce l'ha fatta e poi violenta lite tra fidanzati lui la costringe a salire in auto i passanti chiamano la polizia è successo a civita nuova marche e poi quest'altra notizia ferragosto ma non solo la struttura di via valenti rifugio estivo dei maceratesi e quindi tutti in piscina la piscina fa il pieno in qualche modo c'è stata la rivincita delle piscine proprio in questa estate legata anche al discorso che abbiamo visto poco fa legato al problema delle mucillagini e poi ancora altre notizie i controlli dei carabinieri guida la smart della mamma con la patente revocata nei guai e poi si sente male dopo il bagno donna soccorsa in spiaggia a porto re canati e altre notizie processioni in mare san marone l'abbiamo visto a porta civita nuova marche e a re canati l'appello dei residenti di villa teresa dateci l'erba sintetica per creare l'area giochi e quindi le richieste che arrivano appunto dai quartieri andiamo avanti ora con fermo torre di palme palio record successo per la cavalcata dell'assunta contrada in testa da sola nell'albo d'oro allerta meteo a servigli hanno deciso il rinvio per il corteo e la giostra dell'anello allerta meteo che abbiamo visto insomma valida per la giornata di oggi con particolare attenzione ai temporali soprattutto per il pomeriggio di oggi la serata e anche la giornata di domani movida feste blindate in riviera dopo ferragosto si pensa alle prossime sfide quindi bilanci e prospettive a porto san giorgio disagi per il traffico in via monte grappa occorre cambiare a porto santo elpidio settimana di eventi la notte più rosa già parte con alfa e poi ancora andiamo a vedere invece in taglio basso questa notizia di cronaca che riguarda monte rubiano multato scappa e rischia addirittura di investire i carabinieri monterubiano denunciato un'automobilista raffica di segnalazioni per i fogli di via ignorati fermato e multato mentre i carabinieri scrivono il verbale risale in fretta in auto parte rischiando di investirli e inveisce contro di loro si tratta di un 68enne poi denunciato all'arma gli stessi carabinieri hanno effettuato altre segnalazioni per daspo urbani e fogli di via ignorati e un bilancio insomma per il fermano è questo a livello di controlli andiamo a vedere ora invece l'edizione accorpata a scolifermo per il resto del carlino lo sportivo anconetano ceci maledizione a cinque cerchi niente paralimpiadi a parigi con il tandem oro mondiale e poi ancora andiamo a vedere ferragosto senza eccessi e pochi turisti questo è un po diciamo questa è un po la tendenza che abbiamo visto nelle varie edizioni dei giornali insomma sia Corriere Adriatico che il resto del carlino presenze in calo dalla città alla riviera sorride solo l'entroterra in montagna contro il caldo estremo quindi in qualche modo la rivincita delle aree interne questo possiamo dire la sintesi di questo di questo ferragosto e abbiamo visto che in molti operatori sperano che ci sia un colpo di coda estivo per settembre e che magari si possa rimediare così ma per il momento insomma niente pienone presenze in calo un po ovunque ad altidona auto capovolta in autostrada a bordo due allieve della finanza e poi questa bella immagine festosa cavalcata dell'assunta festa torre di palme show a affermo con la rievocazione il settimo palio della contrada a beneficio insomma della città questo bel evento ma anche dei turisti ovviamente dei visitatori che hanno potuto godere diciamo anche di questo clima a san meredetto del tronto ecco la spiaggia per cani finalmente tante richieste e quindi sempre più richiesta questa opportunità per portare anche in vacanza o comunque in spiaggia gli amici a quattro zampe affermo capanno a fuoco scatta la lite con gli affittuari a causa del litigio il proprietario dello stabile finisce in ospedale per un trauma cranico e chiudiamo con il corriere adriatico di ascoli piceno piano aiuti per il commercio in centro storico soprattutto ristoranti e stuzzicherie la rengo vuole differenziare i mancano diverse tipologie di negozi un pacchetto di incentivi e sconti sulla tari così il comune vuole appunto aiutare incentivare il commercio e rendere più appetibile il centro storico successo del carnevale in spiaggia siamo a san meredetto del tronto ovviamente riviera un party dopo l'altro qui sembra aver funzionato questa proposta e poi questa notizia reportage sotto accusa simone traini rischia il processo dalla russia il giornalista a scolano siamo in chiusura è tutto con la rassegna stampa per ora grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di programma